La guida sicura è uno dei temi più cari all'automobile club d'Italia che ogni giorno mette in campo politiche importanti e investimenti per incentivare la guida sicura, soprattutto nei più giovani. Gli incidenti stradali hanno numeri impressionanti a livello nazionale e allora si insiste su temi come la velocità, la distrazione, la corretta posizione di guida e altro. Nel 2021 rispetto al 2020 gli incidenti sono aumentati del 26,7%, gli incidenti mortali sono stati 1.238 con 1.313 vittime, anche la provincia dell'Aquila è stata molto colpita. All'Aquila inoltre la consistenza del parco circolante di vetture negli ultimi due anni è passato da 216.486 del 2020 a 216.969 del 2021, dati snorciolati dall'automobile club locale con Marfisa Luciani. L'incremento maggiore si è avuto nell'elettrico, seguito da ibrido gasolio e ibrido benzina, anche l'alimentazione a metano ha raggiunto le due cifre, passando da 428 a 530. Il tema del rispetto dell'ambiente è molto sentito da ACI. L'ACI da tempo che investe sulla prevenzione perché essendo un ente pubblico non economico collabora con il ministero dell'istruzione, con il ministero dell'interno, con il ministero della difesa come in questo caso, proprio per dare quelle dritte che servono ad evitare gli incidenti che sono, come diceva bene lei, la tragedia quotidiana. Chiaramente il nostro interesse è quello di essere sempre più vicino ai cittadini, investiamo parecchie risorse per ottenere questi risultati, soprattutto rivolto ai giovanissimi. L'occasione per ribadire l'importanza di tali concetti è stato un corso di guida sicura rivolto a 200 militari del nono reggimento alpini dell'Aquila, guidati dal colonnello Gianmarco Laurenschig. Presente all'Aquila il generale di divisione Massimo Biagini, vice comandante per il territorio delle truppe alpine. Sono iniziative che permettono di accrescere quelle che sono le professionalità che i nostri militari esercito, i nostri militari alpini in uno specifico hanno. Sono momenti di formazione che uniscono poi due fasi, una quella teorica dove si richiama ad avere quell'approccio, quell'attitudine di sicurezza della guida e poi quella pratica, anche quello quindi dell'emergenza. Il connubio di queste due lezioni, grazie alla collaborazione che abbiamo con l'ACI e quindi con un personale altamente specializzato, non fa altro che accrescere quelle che sono le nostre qualità, la nostra preparazione. Quindi che ben vengano delle iniziative strutturate come di quelle di cui stiamo parlando oggi.